Oggi guarderete tutti insieme la vendetta di Doomsday, statemi a sentire. In questa missione Starlab dobbiamo sconfiggere Lanterna Verde mentre è potenziato, ma facciamo molta attenzione, quando Lanterna Verde è potenziato nessuno lo ferma. Questo è un incarico per Doomsday. Bisogna batterlo questo Lanterniano. Premete sempre il tasto cerchio per fare la pelle di Doomsday rocciosa. Ricordatevi che la pelle di Doomsday diventa dura come una roccia. L'ho vista tante volte sta super mossa di Doomsday. Dà un sacco di pugni all'avversario quando è sottoterra. Dai che sono vicinissimo alla vittoria. Dai, volevo vincere però. Oh, vittoria! È stata lunga questa recensione, l'ho fatto lungo questo video. Finalmente Doomsday ha avuto la sua vendetta. Per questo la missione si intitolava la vendetta di Doomsday. Abbiamo battuto il Lanterniano, abbiamo sconfitto Lanterna Verde. Se il video vi è piaciuto dovete subito condividerlo. Mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Grazie. 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 Grazie.